Nessuna svolta dall'autopsia eseguita nel pomeriggio di ieri sul corpo di Mattia Mingarelli, il villeggiante comasco di 30 anni scomparso il 7 dicembre scorso in Val Malenco e trovato senza vita alla vigilia di Natale, 200 metri a monte della località Barchin, questa zona boschiva ai margini delle piste e da sci che ora vi mostriamo. La conferma arriva dalle indagini che proseguono serrate con i carabinieri del reparto operativo di Sondro sul posto anche oggi insieme ai colleghi del RIS di Parma. Sotto la lente degli specialisti del reparto investigazioni scientifiche dell'arma sia il luogo teatro del ritrovamento del corpo del giovane agente di commercio di Albavilla sia il ristoro Barchi, tra gli ultimi luoghi visitati da Mingarelli prima di sparire nel nulla. Intanto ieri pomeriggio alle 18, dopo quasi due ore di lavoro nella camera mortuaria dell'ospedale di Sondrio, l'anatomopatologo Paolo Tricomi ha concluso l'autopsia disposta dalla procura. L'esame ha rilevato in particolare sul capo della vittima due fratture, una orbitale e una occipitale, sia compatibili con un'eventuale caduta sul terreno di ghiaccio e roccia a pochi passi dalle piste da sci, dove il trentenne è stato rinvenuto il 24 dicembre da due turisti durante un'escursione, sia riconducibili a colpi inferti con un corpo contundente. Insomma, dopo 20 giorni di ricerca a tappeto, indagini serrate, il ritrovamento del cadavere, i carabinieri del reparto operativo di Sondrio e la procura ancora non si sbilanciano e attendono di essere in possesso di tutti i tasselli utili a comporre il puzzle della verità sulla morte del giovane, innamorato della Valmalenco e delle sue montagne. Un orientamento prezioso per mettere un punto fermo sulle indagini a questo punto potrebbe arrivare dai prelievi di DNA effettuati sul corpo del trentenne per stabilire eventuali colluttazioni, dagli esami tossicologici o ancora dagli ulteriori accertamenti condotti negli immobili sotto sequestro da parte degli uomini del RIS. Insomma, ci sono ancora degli elementi che devono essere chiariti dagli investigatori per dare risposte certe, in particolare alla famiglia del trentenne che non ha mai lasciato la Valmalenco dal giorno della scomparsa e che chiede di conoscere la verità sulla morte del congiunto. Le indagini proseguono a pieno ritmo e non escludono al momento alcune ipotesi, si limita a dire con doverosa prudenza il procuratore capo Claudio Gittardi che dal primo giorno ha seguito con il sostituto Antonio Cristillo il caso della scomparsa di Mingarelli.